Verificare se esiste nel clero bolognese una visione condivisa della missione dei laici, la missione e la formazione dei laici, aspetti positivi e lacune nella nostra diocesi, gli ambiti in cui i laici sono oggi chiamati con urgenza ad annunciare il Vangelo. Sono questi gli argomenti principali attorno ai quali il Cardinale Arcivescovo riunirà i sacerdoti e i diaconi petroniani nella prossima tre giorni del clero dal 16 al 18 settembre prossimi, temi sui quali i sacerdoti si intratterranno anche in gruppi di studio. I lavori si apriranno con una meditazione dell'Arcivescovo che introdurrà ad una mattinata di ritiro spirituale, mattinata che si concluderà con l'adorazione eucaristica e la Santa Messa. Il primo intervento avrà carattere storico sarà quello di Giorgio Campanini, già docente di storia delle dottrine politiche nell'Ateneo di Parma, il movimento cattolico in Italia da Leone XIII a De Gasperi. Si entrerà poi nella riflessione più prettamente teologica con il contributo di Don José Luis Iglianes, membro della Pontificia Accademia Teologica e docente all'Università di Navarra, I laici nel Magistero della Chiesa dal Vaticano II all'Esortazione Cristi Fideles Laici di Giovanni Paolo II e di Don Miguel de Salis Amaral, docente all'Università Santa Croce di Roma, lo statuto teologico dei Cristi Fideles Laici. Una sessione sarà dedicata ad un tema di scottante attualità, la teoria del gender e le sue conseguenze sulla istituzione matrimoniale, con una presentazione di Don José Noriega Bastos, docente al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia e membro della Consulta Nazionale dell'Ufficio Famiglia della CEI. Le giornate saranno aperte e concluse dalla celebrazione della Liturgia delle Ore e prevedono anche il pranzo insieme.